In sette giorni, Dio creò il mondo. In sette secondi, io ho distrutto il mio. Benvenuto al Traveling, mi dica, mi serve una stanza. Per due settimane. Tu sei mio fratello, io voglio aiutarti. Ma ti guardo ed è come se tu non fossi qui. Ken Anderson, Ed Rice, Monica Freeman, Stephen Phillips, Sarah Jensen. Io ho il potere di cambiare radicalmente le sue condizioni. Ma non voglio fargli un regalo che l'uno si merita. Non è una cosa che si fa tutti i giorni, non è facile per me. Fa quello che mi hai promesso. Lei si considera una brava persona? Come risponderebbe se io le facessi la stessa domanda? Perché ho la sensazione che lei mi stia facendo un grosso favore? Perché ho la sensazione che se lo meriti. Io so di essere la ragazza delle ali spezzate, ma chi sei tu? Io non voglio parlare di me. Peccato, perché sei molto interessante. Non fa parte dell'accordo. Che significa? Emily! Come mai lei pensa che il tuo nome sia Ben? È meglio che non me lo chiedi. Non si gioca con la vita delle persone! Non voglio mentirti ancora. Ho fatto una cosa molto brutta e non sarò mai più lo stesso! Non mi sono trattato molto bene. Comincia ora. Questo non doveva succedere. Che hai intenzione di fare? Che hai intenzione di fare?